Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi e oggi vi spiego come trovare quest'altra pietra da forciatura funerea, quella bianca visto che ho fatto un tutorial su come trovare le tre pietre e mi stavo domandando perchè non fare anche il tutorial su come trovare l'ultima pietra quindi dovrebbe essere la quarta pietra e quindi ragazzi triggetevi qui in questo posto, tanto ci arriverete sicuramente mi sembra che una volta ucciso Malitec, quello là, la belva, poi la belva dove si trasforma in quell'essere con l'armatura tutta nera e poi una volta ucciso vi porterà qui vabbè questo è un seme d'oro se vi interessa, mi sono un po' divertito con questi e niente, giù invece c'è il gargoyle, quindi se volete ammazzarlo uccidetelo così per divertimento io prima l'ho ucciso e poi ho raccolto la pietra da forciatura è l'unico, cioè sembra l'ultimo sopravvissuto, è l'ultimo sopravvissuto l'ho portato qua all'angolino, l'ho affrontato, quindi sfido anche voi, prima ammazzatelo e poi raccogliete la pietra oppure mandate avanti il video per capire dove si trova esattamente questa pietra ecco guardate bene questa parte tutte e due con poca vita guardate là come ho schivato bene i suoi due colpi e l'ho ammazzato ok? finisce e un'altra cosa, se vi interessa questa chiave che ho appena trovato su questo catavere prendete la maledizione qua comunque la pietra si trova da questa parte questa, eccola qua e niente ragazzi, poi un'altra cosa, non so come passare dall'altra parte sia alla mia sinistra, non so proprio come andare dall'altra parte, quindi se c'è qualcuno che lo sa lo scriva nei commenti quindi se questo video è stato utilissimo e ti consiglio di iscriverti al canale e di lasciare un like ciao